Cari pellegrini devoti, vi ripeto ancora una volta quello che ho detto durante l'Evangelizzazione. Cerchiamo di rimanere sempre nell'amore del Signore. E se rimarremo nel suo amore, alla fine della nostra vita saremo giudicati sull'amore. E con queste parole che io, con tutto l'affetto del mio cuore, vi saluto, vi abbraccio idealmente e vi dico arrivederci. Nostra Signora, dallo sfoglio peredetto, vi accompagni sempre nel cammino della nostra vita. Amen.